Buon pomeriggio e benvenuti a tutti all'interno di questo nuovo video del calcio al bar, oggi pomeriggio insieme per andare ad analizzare quattro europei dal 1992, l'incredibile sorpresa della Danimarca fino al 2004, laddove a vincere è stata la Grecia di Otto Reagel. Lasciate un bel like, una bella iscrizione per sostenere e per supportare il canale. Ti dicono che devi preparare la squadra in due giorni, in pochissime ore. Tu che sei Richard Muller Nielsen non sai dove rifugiarti e dici a tua moglie che sarà un disastro mentre sei impegnato a mettere la cucina. Supponiamo che tu debba anche andare a prendere diversi giocatori dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Germania, laddove sono in meritate vacanze perché non si aspettano di dover giocare una competizione internazionale. Ti presenti a Svezia 1992 sapendo che probabilmente sarà un'annata e una competizione disastrosa, però tu ci vai lo stesso. E se da una parte il primo risultato non è così negativo perché c'è un pareggio contro l'Inghilterra e poi nella seconda giornata perdi contro la Svezia padrona di casa, allora tu pensi che il tuo europeo sia finito lì. Anche diversi commentatori dicono che no, in realtà è tutto chiuso e che non c'è più niente da fare. Nell'ultima giornata devi sperare di battere la Francia allenata da Michel Platini e al tempo stesso che l'Inghilterra perda contro la Svezia. E avvenne esattamente questo. La Svezia batte l'Inghilterra con la rete di Brolin per 2-1 e tu invece con la rete di Elstrup batti la Francia. Così Svezia e Danimarca, le nordiche, si ritrovano in semifinale della competizione. E se da una parte, per quanto riguarda la Svezia, c'è la Germania che quando deve battere in semifinale una squadra padrone di casa non se lo fa dire due volte, chiedere alla Jugoslavia nel 1976. Dall'altra parte c'è un po' più di lotta perché c'è una squadra che è arrivata lì e che si sta giocando le proprie chance inaspettatamente contro l'Olanda campione. E quindi anche qui è un risultato in bilico ma che sembra già scritto a favore degli olandesi. Anche perché la Danimarca aveva speso tante energie nel corso del girone. E quindi che cosa decide Nielsen di far fare una gita ai suoi per ricaricare le batterie nel fast food tra l'ultima partita contro la Francia del proprio raggruppamento e la semifinale contro l'Olanda. 2-2 con doppietta di Larsen e quindi va ai calci di rigore. Chi sbaglia colui che aveva realizzato uno dei più bei gol della storia degli europei in finale? Marco Van Basten dal dischetto. E così clamorosamente la Danimarca li segna tutti ed è in finale. Era stata ripescata perché la Jugoslavia era stata esclusa dal torneo per i conflitti che stavano accadendo nella regione. La nazionale danese che era arrivata a seconda con 13 punti nel girone con la Jugoslavia e che era stata la migliore tra le seconde all'interno dei gruppi per qualificarsi alla fase finale dell'europeo si gioca la finale. Su una palla pagante all'interno dell'area di rigore Jensen scarica con tutta la potenza che ha al diciottesimo minuto. Ma non è chiusa qui perché nonostante la Germania ci provi a rendersi pericolosa verso la porta di Schmeichel nel secondo tempo il gol del 2-0. Bielford va via in mezzo a due, ribalta il campo e tira in allungo dal limite dell'area D a rigore. Tocco al palo interno e gol, la rete è il 2-0 che chiude definitivamente i conti e soprattutto proietta sul tetto d'Europa una squadra che lì non ci sarebbe nemmeno dovuta essere. L'Euro 1996 è la prima edizione con 16 squadre, serve un paese avanzato con impianti che possano sostenere diverse tante partite. E quindi quale miglior nazione che non l'Inghilterra? It's coming home, esce qui il nuovo singolo perché è un calcio che ritorna finalmente a casa. Per l'Inghilterra c'erano signori come Scheringham, Shearer, Gascogne, quindi sembra tutto fatto la strada spianata ma come detto per gli europei 1992 di mezzo c'è sempre la Germania. Perfetti dal dischetto i tedeschi, mentre invece chi sbaglierà per l'Inghilterra? Gareth Southgate, l'allenatore e selezionatore tecnico attuale. C'è la grande opportunità di passare a tre europei vinti e una mano la dà Cuba perché Oliver Biroff, siamo nei supplementari di Repubblica Ceca contro Germania, partita che è finita 1-1. Si ripete un po' ciò che abbiamo visto vent'anni prima tra Cecoslovacchia e Germania, però qui le cose andranno in modo nettamente diverso perché c'è una regola famigerata, discussa, controversa, quella del golden goal, quella in cui chi segna i supplementari vince. E così Oliver Biroff la punta in avanti del piede a calciare un pallone all'interno dell'area di rigore verso la porta di Cuba che non lo controlla perfettamente, è costretto a tentare di neutralizzare la sfera sulla riga. C'è una curiosità importante, ogni singola volta che la Germania ha vinto questa competizione l'europeo ha trovato sulla sua strada la doppietta degli attaccanti. L'euro 2000 si svolge in Olanda e in Belgio e forse abbiamo delle nazionali ipercompetitive, un pezzo di storia di questo sport passa anche da questa competizione. Perché da una parte per l'Olanda, padrone di casa, abbiamo Bergkamp, Davids, abbiamo Yapstam, Patrick Kluivert di un calibro elevatissimo. Anche noi eravamo forti, con Totti, Del Vecchio, Del Piero, avevamo Zambrotta, Pessotto, una parte di questo gruppo si ritroverà poi nel 2006. Avevamo anche in panchina Zoff e quindi il nostro calcio non era offensivo, bensì molto difensivo. Ed è grazie a questa spiccata dote di sacrificio che arrivammo in finale dell'europeo. Contro l'Olanda rimanemmo in dieci per l'espulsione di Zambrotta. L'Italia, soffrendo, eliminando i calci di rigore l'Olanda, arrivò all'ultimo atto a giocarsi la competizione. Dall'altra parte però c'era una nazionale che in anella dei risultati importanti, tutti col punteggio di 2 a 1. Sconfitta la Repubblica cieca, sconfitto il Portogallo, che ritroverà anche nella semifinale dei mondiali del 2006, in finale dell'europeo nel 2016, che ha già trovato nella semifinale di Euro 1984-1984. C'era ancora quella famigerata regola che avrebbero dovuto togliere subito dopo l'introduzione del Golden Goal. E quindi Sinedine Zidane, più grande di tutti, uno dei più grandi della storia del calcio, per fantasia, per tecnica. Tra l'altro segnò anche una meravigliosa rete nella finale di Coppa dei Campioni, due anni dopo contro il Bayer Leverkusen sotto il cielo scozzese. Noi ci siamo difesi bene, perché siamo addirittura passati in vantaggio nel secondo tempo con il gol di Del Vecchio. Colpo di tacco da parte di Totti, che tra l'altro nella semifinale dell'europeo contro l'Olanda era andato sul dischetto e aveva calciato un rigore praticamente perfetto. Disse ai propri compagni, moglie faccio il cucchiaio. E così feci. Pesso sotto che sostituiva Zambrotta il traversone con il piattone destra e Del Vecchio, per il gol del vantaggio. Rilancio lungo di Bartes, siamo nei momenti finali di gioco, 94esimo in corso. Il colpo di testa a prolungare, il pallone sul centro-sinistra dell'area di rigore. La stop a Wilthor, neo entrato in campo nel corso del secondo tempo. E calcia ad incrociare, con il sinistro, verso il centro della porta di Toldo, rasoterra che si tuffa, si getta, ma nulla può. E la sfera passa sotto la sua mano. Così la disperazione assale il portierone a quell'epoca della Fiorentina. Quello potrebbe cambiare nettamente l'inerzia alla gara. Davide Treseguet, un altro che milita nel campionato italiano con la Juventus, punisce la nostra nazionale. 2-1 dopo una progressione sulla fascia di sinistra di Robert Pires, che aveva una genialità dal punto di vista tecnico, incredibile dal punto di vista della velocità. Era quasi immarcabile se in condizione. Mette un cross al rimorchio e così Davide Treseguet non può far altro che portare in paradiso la Francia, in quell'europeo che per noi resta maledetto. Euro 2004, infine, si tenne in Portogallo. E lì la nazionale portoghese, che aveva una generazione d'oro e che ha potuto contare su questa dal 2000 al 2006, con calciatori del calibro di figo. Deco, Manish, Luno Gomes, ancora un Cristiano Ronaldo abbastanza acerbo, ma già giocatore dalle spiccate doti tecniche, può pensare di vincere. Però, anche qui, c'è qualcosa che gira storto a questo Portogallo, che non riesce all'ultimo atto, proprio nel momento in cui stava per varcare quella soglia. Innanzitutto, c'è un po' un andamento circolare da parte di questo torneo. La prima partita, sapete qual è stata? 2 a 1, Grecia-Portogallo. La Grecia riuscì a battere, nonostante il gol di Cristiano Ronaldo e il Portogallo, con Karagunis e Basinas. Una vittoria per 2 a 1 importante per lanciarsi per le successive partite. Sulla panchina della Grecia c'era un signore di nome Otto Reagel, che aveva vinto con il Kaiserslautern la Bundesliga tedesca, e così si stava a proprio in quando verso un'impresa storica, anche col Kaiserslautern, era risalito dalla seconda categoria, e aveva vinto da neopromosso il campionato. La nazionale, allenata dallo stesso Reagel nel girone di qualificazione, aveva perso le prime due partite, salvo poi vincerle tutte e sei e qualificarsi da prima, relegando la Spagna alle qualificazioni successive. La nazionale del Moro Morientes era riuscita allo stesso a qualificarsi per la fase finale, e così entrambe si ritrovarono nel girone, e Spagna e Grecia pareggiarono 1 a 1 con gol di Caristeas e Morientes, per poi chiudere la Grecia con una sconfitta nella terza giornata del raggruppamento contro la Russia, finendo il proprio gironcino a 4 punti in seconda dietro il Portogallo, che riuscì a vincerle entrambe le due successive. Piano piano va a divanarsi il torneo, con un'altra situazione particolare, quella del girone dell'Italia. L'Italia era una nazionale che aveva delle ottime individualità, però quella nazionale fu eliminata a causa del biscotto tra Svezia e Danimarca, perché si andò a vedere, per capire chi sarebbe passato agli ottavi di finale, la classifica pulsa negli scontri diretti, e così tutte e tre queste squadre avevano pareggiato nelle partite che si erano tenute tra di loro. Però l'Italia aveva pareggiato per 0 a 0 contro la Danimarca, e 1 a 1 contro la Svezia, mentre invece la Svezia aveva pareggiato per 2 a 2 contro la Danimarca, la Svezia, alla fine del girone, ottenne 3 gol fatti e 3 gol subiti negli scontri diretti. La Danimarca 2 gol fatti e 2 gol subiti, mentre noi 1 gol fatto e 1 gol subito, e per questo venimmo eliminati, nonostante chiudemmo il raggruppamento a 5 punti totali, gli stessi di Svezia-Danimarca. Una cosa curiosa è anche che ci dissero pensate alla vostra partita prima di vedere il nostro biscotto contro la Bulgaria, e infatti soffrimmo per vincerla. 2 a 1 con la rete di Cassano al 94esimo minuto. Si spalancano le porte dell'ultimo atto per la nazionale di scolari, ma dall'altra parte c'è la Grecia che va avanti a colpi di 1 a 0. 1 a 0 alla Repubblica Ceca in semifinale con il silver gol di Dallas. Era stato tolto il golden goal. Che cos'era la rete d'argento? Se tu chiudi in vantaggio la prima frazione di gioco del tempo supplementare, allora hai vinto la partita. La formazione di Reagel inoltre eliminò anche la Francia. I quarti di finale si prese questo lusso per 1 a 0 con la rete di Caristeas. Anche per lei si spalancano le porte della finale. Il Portogallo ha imparato dai propri errori dopo la prima sconfitta nel girone? Nì, perché è una partita tirata, chiusa e così sul calcio d'angolo di Basinas nel corso del secondo tempo, Caristeas va più in alto di tutti anticipando un'uscita a farfalle di Riccardo e di testa mette dentro il gol del vantaggio della Grecia. Primo ed unico gol di quella sfida che si deciderà in questo modo. La nazionale greca, così può vincere gli europei. Io ragazzi sono giunto in chiusura di questo video, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi chiedo di lasciare un bel like, una bella iscrizione per sostenere e per supportare questo progetto e inoltre vi dico anche che il racconto degli europei dal 2008 fino al 2021 lo effettueremo in un'altra live, prima dell'inizio della partita, della finale degli europei stessi, Inghilterra-Spagna. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci vediamo con il prossimo video, con la prossima diretta, sempre qui, sempre sul Calcio al Bar. Ciao e alla prossima!